tutti insieme ne verremo fuori proteggete voi e i vostri cali seguiamo le disposizioni del governo mettiamo il virus in fuorigioco andrà tutto bene ne sono sicuro abbiamo fiducia in tutti voi possiamo fermare il virus basta un po di buon senso distanti ma uniti ognuno nel suo piccolo può fare la differenza vinciamo insieme questa partita uscite solo se necessario ora il calcio passa in secondo piano la salute viene prima di tutto restiamo a casa restate a casa restiamo a casa restiamo a casa mi raccomando restate a casa restiamo a casa restiamo a casa restiamo a casa restiamo a casa restate a casa stiamo a casa